Il nostro cagliorino che si chiama Prezzemolo, lui è un ballerino di Cia Cia Cia. Eccolo qua, adesso arriva, siamo pronti. Ecco qua Prezzemolo, Cia Cia Cia. E lo accompagniamo con il patico nelle mani, tutti assieme. E la banana è un sole, è la banana del Cia Cia Cia. E l'unico in alright con un sol di lavoro, è la banana, è la banana del Cia Cia. Bravissimo Prezzemolo, facciamo un applauso a Migni, che è stato veramente bravo. E adesso vi presento Ulisse, con i suoi pantaloncini a vita bassa, molto bassa, e ci presenta la spacciata. E lo accompagniamo con il sfatto delle mani, forza! Hai pantaloni molto bassi. E questo è un sangue rosso. Imagina che sono bravoli, facciamo un applauso Ulisse, bravissimo. E ora vi presento l'ultimo cagnolino, lui è un ballerino, pensate, di Mambo. E questo è Ricky. E facciamo le mani a tempo, tutti i film. E sto pulito! Vai fermando! E ripetiamo un bellissimo applauso, bravissimo! Benissimo, c'è benissimo pubblico, cari bambini.